Stai facendo dal lato via un po' il lato E ho messo la velocità, no, il tempo è a 2.50 millisecondi Non si sente il suonino, è quello della stanza Si dice la distanza da Quindi tu gli dici Vediamo Meno uno No, fantastico Però non ho capito perché questo è un bottone e quindi gli dice